Compost Goal nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità della frazione organica e di in qualche modo promuovere l'uso e la scelta dei sacchi corretti, dei sacchi conformi, ossia i sacchi appunto biodegradabili e compostabili a norma UNIEN 1343-2. E per farlo, per far arrivare il messaggio, per in qualche modo rendere efficace la decodifica del messaggio, abbiamo evitato tecnicismi e parole difficili, ma abbiamo scelto di rappresentarlo attraverso un immaginario, che è l'immaginario del gioco del calcio, dove praticamente a scendere in campo sono i comuni, i loro cittadini e le partite che si giocano sono le partite della sostenibilità tramite le analisi merceologiche. Infatti vengono in qualche modo controllati, valutate appunto le performance dei singoli comuni, come effettuano la raccolta differenziata di rifiuti organici e la percentuale dei sacchetti a norma presenti appunto all'interno dei conferimenti e in qualche modo poi alla fine ci saranno dei vincitori. I risultati saranno presentati il prossimo anno, ma al momento la cosa molto importante è che si sta facendo un allenamento di intesa, delle prove di intesa, un allenamento di filiera tra soggetti pubblici, privati, associazioni, autorità competenti, liberi cittadini, tutti coloro che fanno parte della filiera dei rifiuti organici. Quindi l'obiettivo è quello di non rimanere sugli spalti da spettatore, ma scendere in campo, mettere il proprio impegno, ognuno secondo il proprio ruolo, per contribuire alla causa, per una frazione organica di qualità e sacchi di legalità.